Sicuramente Giffoni è un palcoscenico importante, l'occasione di un film come Dolcissime è stato anche l'occasione per ribadire un tema importante, non solo al contrasto al bullismo e le forme legate alle tecnologie del cyberbullismo, ma anche un'attenzione rispetto agli stereotipi di genere, quindi una donna, una ragazza che non deve essere inquadrata in quelli che possono essere i canoni estetici solamente, ma quindi un'attenzione a queste tematiche trasversalmente, con un progetto appunto della Regione Campania che vuole coinvolgere non solamente le scuole che sono un interlocutore sicuramente privilegiato, ma ha voluto coinvolgere anche altri ambiti importanti nella vita dei giovani come le associazioni sportive, le associazioni giovanili semplicemente, quindi una sinergia tra quelli che sono i luoghi anche di ritrovo, i luoghi in cui i giovani agiscono e vivono, che possono insieme appunto intervenire e aiutare non solo i bulli, direi, ma anche chi assiste a dati di bullismo e spesso non interviene.